Buon dimotta a tutti. Allora, sono sempre me, disegna Milano. Dunque, oggi il titolo di questo video è Sarcone Veritas. È inerente un video di Sarcone, recentissimo, inerente a un video che ha fatto Federossi qualche giorno fa, forse è passata una settimana più o meno, dove lui dice che si scusa con Lazzarini, un video di otto minuti, dove appunto dice che lui si scusa con Lazzarini perché è stato troppo pesante, insomma, ed è tutto preparato per creare hype, tutte queste belle, a questo punto si pensa panzanate. Perché? Sarcone ha fatto appunto questo video dicendo, e come se avesse detto, lo faccio per onor del vero, perché io c'ero, ero presente, ero in studio da Lazzarini, ho visto le reazioni della Cerri che si chiudeva in bagna a piangere, poi le dice per ore, vabbè, magari viene un po' romanzata, perché per ore, magari non si entra in bagna a piangere un quarto d'ora, venti minuti, mezz'ora, per ore la vede un po' difficile, diciamo così. Quindi, Sarcone fa questo ragionamento e dice, a questo punto, caro Rossi, sei un po' ipocrita, perché dici che era tutto finto e non era vero, ma io ho visto che aria tirava nello studio. E quindi, sempre per onor del vero, vorrei fare qualche considerazione. La prima che mi viene in mente è questa, Rossi probabilmente, questa è una considerazione mia, personale, poi se qualcuno vuole dirmi cosa ne pensa, va benissimo, anzi meglio, e cioè, Rossi probabilmente sta cambiando target o comunque vuole recuperare una parte di pubblico, indi per cui è, tra virgolette, costretto a fare un passo indietro e a dichiarare ancora una volta, ancora una volta, non lo so, sicuramente stavolta, a mio modo di vedere, il falso, e cioè, dicendo che lui si scusa e che era tutto finto in realtà, solo che lui ha esagerato, cioè, il sugo del discorso è, era tutto finto. Io e la Zerini eravamo d'accordo, abbiamo voluto creare del life intorno a noi e poi dopo io però ho esagerato. Ora, stando a quello che dice Sarkone, non è così, e a dire la verità, ribadisco, sono propenso a credere a Sarkone, perché lui l'ha vissuta sta cosa, poi che motivo avrebbe di dire queste cose, cioè, nel senso, non è che crea intorno a lui questo hype dicendo, ragazzi, le cose sono andate così, piuttosto che cos'ha, non è che sta facendo del dissing o si è arrabbiato con qualcuno, quindi, e poi a naso, mi sembra sincero. Quindi, ripeto, sono propenso, molto propenso a credere a Sarkone. Altre considerazioni che faccio, Rossi, secondo me, è stavolta cannato, mentre per tante sue scelte tattiche, tecniche, diciamo così, dell'amministrazione, di YouTube, per quanto riguarda la sua figura, e come uomo e come personaggio, su molte sue scelte sono stato d'accordo. Su questa un meno. Nel senso che, a questo punto, uno potrebbe dire, ok, se tutto quello che hai fatto per mesi era falso, chi mi dice che quello che stai dicendo adesso sia vero? Sarà falso anche questo? Visto che sei così inaffidabile, da quel punto di vista. Quindi, insomma, è un po' il, come posso dire, il cane che si morde la coda, mi sembra, in questo caso. Per carità, io gli auguro tutto il bene possibile, a lui, a Sarkone, alla Zarina, alla Cere, nel senso, non è che ce l'ho, come dico sempre, e lo ripeterò fino alla morte, perché poi non voglio che la gente pensi quello che non è vero, cioè che io ce l'ho con tizio, con un caio, che mi piace questo, non mi piace quell'altro. No, bene o male, tutti mi piacciono, e con tutti ho qualcosa da dire perché ho il mio pensiero. Quindi, ripeto, stavolta Rossi si è morso un po' la coda da solo. Vedremo prossimamente gli eventi, se e come si svilupperanno. Ripeto, lui probabilmente vuole cambiare atteggiamento o genere o recuperare la gente che ha perso o entrambe le cose. Infatti nel video lo dice Rossi, ho 32 anni, quindi insomma, devo smetterla di fare il ragazzino una cosa e l'altra. Se tanto mi da tanto la strada, credo sia quella. Secondo me l'ha fatto nel modo sbagliato. Poi vedremo cosa succederà. A saluti. Ciao ciao.